Buongiorno e bentrovati a questa nuova edizione di Etigi Marche. In apertura gli aggiornamenti che riguardano il rivenimento del corpo di un uomo all'interno del parco del cardetto di Ancona. Si potrebbe trattare di un uomo di origini africane e nel frattempo però si attendono risposte anche sul periodo della morte dall'autopsia prevista per la prossima settimana. Potrebbero essere di un uomo di origine africane e resti in avanzato stato di decomposizione trovati all'interno di una struttura abbandonata vicino al faro nel parco del cardetto ad Ancona. La scoperta intorno alle 14 di venerdì è stata fatta da alcune persone che lavoravano in zona e che hanno avvertito la polizia. Il corpo, che sarebbe rimasto lì per mesi, è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria e dopo rilievi le indagini del caso è stato trasportato a Torrette per l'esame autoptico. In giornata il conferimento dell'incarico per l'autopsia sulla Salma da parte del pubblico ministero. L'esame verrà eseguito la prossima settimana all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona per cercare di avere qualche informazione in più sulle cause e il periodo della morte e sulle origini dell'uomo. Al momento del ritrovamento i resti giacevano sopra un materasso ma non è ancora stato possibile stabilire da quanto tempo fossero all'interno dei locali che fino al 1986 ospitavano gli uffici della polizia scientifica. L'ipotesi è che la morte risalga a mesi fa, forse addirittura a questo inverno, considerando che sono stati ritrovati i resti di indumenti invernali. Sul cadavere, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero segni di morte violenta. L'uomo, che nella struttura evidentemente aveva trovato rifugio e dormiva, potrebbe essere stato colto da un malore fatale. Le condizioni del corpo non permettono un'identificazione precisa a vista del cadavere, ma alcuni elementi, come la forma delle dita, il tipo di dentatura, alcuni anelli indossati, fanno propendere per l'origine africana. Gli investigatori hanno rivenuto anche altri panterassi e giacigli all'interno dell'immobile, che probabilmente nel tempo ha dato rifugio anche ad altri senza tetto, riusciti a entrare nonostante i cancelli chiuse e le finestre murate. Un luogo lasciato al degrado, come testimoniano anche le scritte, che si intravedono sui muri esterni ed interni della struttura, che sorge nel parco considerato il polmone verde della città dorica, ma dove purtroppo non mancano più riprese i segni dell'abbandono. Fa riflettere in tal senso anche il fatto che un cadavere sia rimasto per mesi all'interno di un edificio che sorge sopra il bastione San Paolo e a pochi passi dal vecchio faro, due dei luoghi simbolo del parco, senza che nessuno se ne accorgesse. Restiamo sulla cronaca con una notizia che troviamo anche sul nostro portale. Al culmine di una lite colpisce la compagna con una testata e poi minaccia lei e la madre con un coltello sotto gli occhi atterriti. Dei due figlioletti, notte di tensione a Rocca Fluvione, responsabile dei gravi fatti, un uomo di 30 anni. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati per la lite che si era scatenata all'interno dell'abitazione. I tre sono rimasti levemente feriti nella collutazione e sono stati trasportati al protosocorso dell'ospedale Mazzoni per accertamenti. I militari dell'arma stanno completando le indagini per ricostruire l'episodio che ha portato a una simile violenza. Non è escluso che per l'aggressore possano scattare provvedimenti giudiziari. Un'altra notizia di cronaca ci arriva invece da Osimo. Non riesce in questo caso la truffa ai danni di una donna da parte di un ventenne campano arrestato dai carabinieri di Osimo. Il giovane ha telefonato alla signora fingendosi un maresciallo dei carabinieri per spiegare che il marito era rimasto coinvolto in un incidente e che sarebbe stata contattata da un avvocato. Per evitare la querela avrebbe dovuto pagare alla controparte 8 mila euro. La donna però non si è lasciata ingannare, ha mantenuto il contatto telefonico e attraverso la madre ha chiamato i carabinieri della compagnia di Osimo che hanno arrestato il ventenne per tentata furta aggravata non appena si è presentato alla porta di casa della signora. Le indagini proseguono anche per individuare i suoi complici. È arrivato invece una notizia questa di sport in particolare della vicenda che ha riguardato la squadra di calcio della città di Ancona. È arrivato infatti l'ufficiale nulla osta della FIGC per l'iscrizione alla Serie D della SSC Ancona. Il documento a firma del segretario generale Marco Brunelli d'intesa col presidente della Lega Nazionale di Lettanti di fatto chiude il percorso intapreso dal Comune nel tentativo di salvare la squadra di calcio della città. La missione al campionato di Serie D si legge nella lettera inviata dalla FIGC è in soprannumero a condizione che l'Ancona adempia entro l'11 di luglio alle prescrizioni previste per l'iscrizione ossia al pagamento della fideiussione da 31.000 euro e alla tassa di 24.000 euro. Probabilmente già entro mercoledì 10 gli ultimi due assegni verranno consegnati. Adesso torniamo a parlare delle mucillagini. Ieri si è tenuto un tavolo in regione con i rappresentanti del settore della pesca per fare il punto su questo problema ma anche sui fondi in arrivo per il settore. Ci siamo incontrati con le associazioni dei pescatori di tutta la regione e alla fine abbiamo convenuto anche alla presenza del presidente Acquaroli di fare uno stretto monitoraggio rispetto alla situazione che allo stato attuale non è tale per poter chiedere lo stato di calamità perché significherebbe prevedere un 30% dei danni sul fatturato in meno ovviamente delle imprese rispetto all'anno precedente. Adesso non è possibile ovviamente fare una verifica del genere probabilmente un impatto così negativo non c'è stato. Così l'assessore alle attività produttive Andrea Maria Antonini dopo il tavolo per la pesca in regione per dare risposte al comparto che da circa un mese fa fronte alle difficoltà connesse alla presenza della mucillagina in mare. La proliferazione di alghe danneggia i componenti meccanici dei motori delle imbarcazioni e pesantisce le reti rendendole difficili da gestire. Una situazione denunciata in particolare dalla marineria sanbenedettese che ha avanzato la richiesta con tanto di lettere inviata dal comune all'onorevole Lucia Albano di spostare le ultime due settimane del fermo di pesca al periodo dal 7 al 21 luglio. Attualmente le attività nel tratto adriatico da San Benedetto a Bari devono fermarsi dal 16 agosto al 29 settembre. Alcune imbarcazioni su San Benedetto hanno infatti già interrotto l'attività così come certe unità più piccole su Ancona, Senigallia e Fermo ma al netto delle singole situazioni, seppur con fatica, le imbarcazioni riescono ancora a lavorare. Negli ultimi giorni la situazione in mare è sembrata migliorare. La regione ha ribadito in ogni caso di voler tenere alta l'attenzione sul fenomeno con monitoraggi effettuati in collaborazione con il CNR. Ma oltre al tema delle mucillaggini, il tavolo è servito per fare il punto anche sulle misure FEAMPA 2021-2024 per il sostegno della pesca e dell'acquacoltura. Con un unico atto amministrativo verranno emanati ad agosto 5 bandi per un valore totale di 5 milioni di euro che riguardano porti, promozione, trasformazione, acquacoltura e flotta. Annunciati infine altri 6 milioni dal Ministero per i ristori connessi al caro carburante. Dal Ministero sono arrivati ulteriori 6 milioni di euro a favore delle imprese che avevano fatto richiesta rispetto ai problemi che erano sorti con la guerra russo-ucraina quindi con l'aumento del caro carburante soprattutto e quindi è arrivato un ristoro importante che si va ad aggiungere ai 6 milioni già precedentemente erogati. La stagione turistica nel frattempo sta per entrare nel vivo a Porto Novo gli operatori nonostante i problemi degli ultimi giorni legati appunto alle mucillagini restano ottimisti se c'è bel tempo dice i turisti arrivano. Problemi spiagge, problemi mucillagini insomma bisogna alzarsi la mattina, cercare di offrire quello che abbiamo il meglio. Che ci sia mucillagine o schiuma nelle acque del mare Porto Novo pare non risentirne e i bagnanti continuano comunque in questi giorni ad affollare la piccola baia, le sue spiagge e i suoi ristoranti così riferiscono gli stessi operatori che si dicono al momento ottimisti circa la stagione appena iniziata tanti turisti, molti in particolare quelli stranieri. Nel nord Italia, Mila Romagna, Veneto, anche molti stranieri quindi è un segno molto molto importante e positivo. Rispetto agli altri anni dunque in linea o se non meglio? Secondo me un po' meglio. All'altra settimana devo dire che c'erano tantissimi stranieri un buon 50% di stranieri e poi dopo c'è diversa gente insomma da fuori regione, l'Anconetano, insomma c'è un po' di tutto qui da noi. Una stagione dunque che si preannuncia anche migliore della scorsa? Questo è un po' difficile a dirlo perché siamo, non dico all'inizio proprio però direi che siamo non nemmeno a metà perché qui da noi il grosso del lavoro arriva fra dieci giorni fino alla fine di agosto e al momento siamo soddisfatti, siamo abbastanza soddisfatti l'unico problema nostro è che non possiamo accontentare tutte le richieste che vengono fatte perché abbiamo una spiaggia un po' ridotta e perciò non possiamo accontentare tutti i clienti e questo ci dispiace molto. Spiaggia troppo piccola ed erosione un altro problema della Baia ma in realtà l'unica preoccupazione al momento degli operatori riguarda il meteo se il tempo è buono spiegano all'unisono, i turisti arrivano. Appena arriva il tempo bello la gente risponde quindi insomma siamo sereni su questo se c'è il sole insomma la gente viene con continuità a portano Al carcere femminile di Pesaro una nuova pavimentazione nel cortile per praticare sport la riqualificazione è opera della WISP di Pesaro Urbino in collaborazione con la ditta Far Costruzioni Sono 20 le donne attualmente detenute nel carcere di Villa Fastigi a Pesaro si tratta dell'unica sezione femminile della nostra regione una presenza, quella delle donne spesso dimenticata quando si parla di carcere come racconta la stessa direttrice della casa circondariale è una sezione piccolina però è peculiare proprio perché ospita donne e quindi è una condizione molto particolare come persone, come figlie, come madri ci sono diversi vissuti che si intersecano appunto con la condizione di donna di donna privata della libertà personale la sezione femminile di Villa Fastigi è omologata per 21 detenute ma spesso si è arrivati ad ospitarne 29 come? Semplicemente aggiungendo delle brandine in camere già piccole e senza aria condizionata per le ragazze, come vengono chiamate qui le detenute la vita è tutt'altro che facile non c'era neppure una struttura per praticare un po' di sport almeno fino ad oggi La sezione maschile ha appunto un campo a disposizione la sezione femminile come avete potuto vedere aveva solo questo cortile e quindi dopo tanti anni di ginnastica ci siamo impuntati non è stato facile recuperare risorse e tutto ma era doveroso che restituissimo a queste ragazze uno spazio dove fare socializzazione la direttrice prima ci diceva appena abbiamo montato il pavimento noi chiesto lo possiamo pulire, lo possiamo lavare quindi è stato importante La UISP di Pesaro Urbino in collaborazione con la ditta Far Costruzioni si è occupata del restauro del cortile con la realizzazione di un nuovo pavimento completamente ecologico realizzato dal riciclo di pneumatici e antiurto adatto quindi all'attività sportiva presto verrà anche installata una rete da pallavolo il tutto grazie a una donazione della stessa UISP da sempre impegnata nel promuovere il valore riabilitativo dello sport attraverso questa donazione passa un messaggio fortissimo di prendersi cura della persona e quindi di far leva sulla dimensione sportiva dell'attività sportiva qui è destinato per la permanenza all'area aperta che spesso si traduce in stare qui, girare, colloquiare, socializzare adesso vuol dire anche fare pratica sportiva c'è una situazione spesso insostenibile all'interno degli istituti mancano spazi, c'è sovraffollamento e quindi lo sport può portare anche quell'ingrediente di umanizzazione lo sport può portare soprattutto uno strumento di comunicazione verso l'esterno per raccontare che gli istituti penitenziari non sono altro che pezzi importanti delle nostre città e questa era la nostra ultima notizia io mi fermo qui ma vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi e arrivederci